Ieri prima giornata senza nuovi positivi sul territorio comunale di Pene, allora sembra aver dato i suoi frutti l'ordinanza emessa dal sindaco Gilberto Petrucci durante le festività natalizie per la chiusura anticipate delle attività commerciali. Sicuramente adesso non possiamo avere un risultato alla mano di questa ordinanza, però così al lume di naso sicuramente quando c'è una restrizione alcuni cittadini volenterosi e di buon senso mettono in atto quello che l'amministrazione pubblica sta facendo per evitare che la situazione possa peggiorare. Per sconviggere il coronavirus c'è la necessità di stare lontani, di non permettere a questo virus di passare da un soggetto a un altro. L'unico metodo è la mascherina, il distanziamento e il rispetto delle norme geni. Intanto incontrata a Campetto negli impianti sportivi prosegue la campagna vaccinale, oggi saranno effettuate altre 600 inoculazioni tra prenotati e non prenotati ma per loro sarà l'ultima giornata perché poi da lunedì si andrà avanti solo su prenotazione. Le vaccinazioni sulla prenotazione tramite il link che ha messo a disposizione la regione e quindi per svolgere ogni giornata che noi abbiamo, che sarebbe lunedì, il mercoledì e il venerdì, queste vaccinazioni di pomeriggio. E lunedì 10 si tornerà anche a scuola, sappiamo tutti che il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglia ha emanato questa ordinanza, anche sul comune di Penne ci saranno nuovi screening per la popolazione scolastica, per un ritorno al sicuro sui banchi di scuola anche se l'amministrazione comunale aveva auspicato un ritorno tra due settimane. Quindi noi ci siamo organizzati per fare i tamponi nella giornata dell'8, del 9, sabato e domenica, cominceremo quindi alle ore 8 fino alle 13 e poi dalle 14 alle 19, 20, adesso vediamo poi l'affluenza.